Cento e più persone in cammino sul verdeggiante pianoro di Campitello Matese, in fila, seguono una guida d'eccezione. La sua chioma bionda, resa scintillante dai riflessi del sole, si distingue chiaramente dalla spianata degli alberghi, distanti centinaia di metri. E lì ciacolò, la popolare conduttrice ed autrice televisiva, volto noto e tanto di trasmissioni di successo dedicate alla natura, tra queste Geo & Geo, forse la più nota, ha inaugurato il primo appuntamento con Dialoghi in Altura. L'intento, rimarcano gli organizzatori di Montagna Molise, quello di parlare di natura nella natura. Valorizzazione della montagna, di pari passo, con la tutela e la sostenibilità, i temi del confronto al cospetto dell'uditorio che, insieme alla gradita ospite, è arrivato nella splendida location scelta per l'incontro. La sorgente di Capodacqua. Noi, poco prima di metterci in marcia, ne abbiamo incontrato alcuni. È un vero piacere fare questa passeggiata qua a Campitello Matese, sul pianore di Campitello Matese, con lì ciacolò, perché lì ciacolò, io la ricordo da quanto faceva Geo & Geo, io ero un suo grande ammiratore per i temi, per le tematiche che trattava, quindi per me è un'emozione molto forte. Un bel posto dove venire a trascorrere qualche giorno in pace, in serenità. Ma il Molise è tutta una serenità, una pace, una natura incontaminata, diciamo. È il suo periodo per il Molise, è il suo periodo. Con lì ciacolò, la scoperta di Campitello Matese, del pianoro, una bella occasione da non perdere. Sì, è vero, un'occasione soprattutto perché Campitello ultimamente è stato sempre più rivalutato negli ultimi anni, quindi sono contentissimo. Noi abitiamo, abbiamo la casa qui e per tanto tempo, diciamo, quello che abbiamo visto è che c'era poca presenza di persone, però devo dire che ultimamente la zona è stata rivalutata. Infatti è un orgoglio essere oggi qui perché da sempre seguo Licia e non potevo di certo perdere questa occasione. Poi anche perché sono originaria del Molise, quindi questa è la mia montagna. Grazie al mio ragazzo oggi mi ha regalato questa giornata. Non lo sapevo neanche, ero venuta a sorpresa, però ne vale davvero la pena. Abbiamo fatto parecchie ore di viaggio perché non stiamo più in Molise. Ed ecco l'Alicia Colò, con il suo garbo e il suo sorriso, ha subito conquistato tutti. Questa simpatia e questo calore è inatteso ovviamente. Il posto è stupendo, credo che sia un evento molto bello incontrare tanta gente in mezzo alla natura perché un anfiteatro così è una cosa eccezionale. Bisognerebbe promuovere uno sviluppo corretto, sostenibile, ma purtroppo se la montagna non viene vissuta e viene proprio lasciata da una parte alla fine la montagna muore perché noi siamo preponderanti in questo territorio, cioè distruggiamo qualsiasi cosa. Se non la usiamo la distruggiamo, quindi bisogna imparare a usarla in maniera corretta. Lei è un abitué qui in Molise, cosa le piace di questa regione? Abitué è una parola grossa, non sono un abitué. Il Molise ha tante cose, mi piace che sia poco conosciuto rispetto al potenziale che ha e questo è bello. Mi piace il calore della gente, poi magari è un po' scontato, mi piace come si mangia. Non si vengono a fare le diete in Molise, assolutamente no. e poi comunque la cosa più importante è quella che ho detto all'inizio, riserva tante sorprese.